Mi ricordo che io mi trovavo molto spesso nel dubbio se prendere l'autobus o comprarmi le sigarette, era una scelta necessaria, quindi veramente a livelli di sopravvivenza essenziali. È venuto fuori spesso quanto fosse difficile, soprattutto agli inizi, riuscire a ingranare in questo messiere ed è un discorso che continua a venire fuori tuttora. Abbiamo comunque più o meno le stesse difficoltà. Poi lui è stato capace di venirne fuori brillantemente e quella è una cosa che dipende da noi.